La lista civica formata da giovani professionisti, operari, figure nuove che si affacciano alla vita politica. La coalizione a supporto della candidata a sindaco cecilia francese si rafforza con una nuova lista civica insieme per Battipaia. Avvocato Salimbene, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di rafforzare una presenza nella coalizione che vede candidato a sindaco cecilia francese. È una manifestazione di adesione con una lista civica, quindi in senso di continuità e di partecipazione avendo come esclusivo interesse il territorio cittadino. Abbiamo ritenuto che fosse in questo momento indispensabile partecipare, aderire, dare un segno tangibile di partecipazione per cui intorno a delle persone che hanno ritenuto di entrare in gioco, di scendere in campo, abbiamo pensato di creare questa lista civica in adesione a quello che è il progetto del candidato a sindaco cecilia francese, cercando di dare da parte della lista e di tutti i componenti della lista e dei candidati un contributo fattivo, non soltanto in senso di partecipazione ma anche di contributo a quello che sarà la progettualità comune che verrà costruita e che verrà proposta poi all'intera cittadinanza. Siamo portatori di interessi legati allo sviluppo del territorio, alla partecipazione in tutte le fasi dinamiche della città. Abbiamo un interesse particolare anche a quelli che sono i temi della sicurezza della città e quindi implementare tutto quanto sia possibile per rendere attuabile un sistema di videosorveglianza sulla città, sulle aree di centro e sulle aree anche di periferia. Inoltre abbiamo un interesse importante su quello che è il controllo e la marginalizzazione degli insediamenti nell'area industriale per quanto riguarda il ciclo dei trattamenti dei rifiuti urbani. Credo che da questo punto di vista il candidato Cecilia Francese abbia dato già un impegno importante con iniziative che hanno determinato un passaggio fondamentale. Arginare questa presenza con una dichiarazione per cui quest'area oggi deve essere dichiarata satura per cui non è possibile pensare a nuovi insediamenti. Su quelli già esistenti saremo da pungolo, saremo da attenzione e quindi chiederemo che durante tutto questo percorso che ci attende per quanto riguarda la campagna elettorale ma anche nella fase successiva un controllo serrato su tutte le presenze all'interno dell'area industriale cercando di favorire le premesse per cui quell'area industriale oggi e domani sia un centro di attrazioni per nuovi insediamenti o per insediamenti che possono essere assegnati a realtà imprenditoriali che sono già sul territorio cui guardiamo con estremo interesse. Cercheremo di favorire una realizzazione di una cabina di regia sul territorio per quanto riguarda il discorso tra le varie forze di polizia. È una intenzione questa anche di attenzione dal punto di vista parlamentare per cui già oggi alla Camera sono presenti delle iniziative parlamentari che tendono a favorire un discorso di cabina di regia. Possiamo qui instaurare dei protocolli di intesa tra polizia di stato, polizia municipale e carabinieri e altre forze di polizia come guardia di finanza per favorire un controllo del territorio e marginalizzare quei fenomeni di spaccio, di diffusioni di aree dedicate alla prostituzione o allo sfruttamento per cui dobbiamo cercare di creare un'intesa dappertutto. Quindi il nostro percorso sul quale ci vogliamo confrontare è un metodo, una scelta, l'ascolto, la programmazione e la condivisione. Questo deve essere il nostro obiettivo come lista e che cercheremo di portare all'interno della coalizione. Con la candidata sindaca abbiamo già delle intese su quello che è il percorso da fare. Ci attende una campagna elettorale durissima come tutte le campagne elettorali cittadini e su queste tematiche dobbiamo rafforzare il nostro percorso. Guardiamo con attenzione a tutto quello che l'amministrazione in questo periodo ha svolto e abbiamo fatto delle valutazioni che ci hanno indotto poi a scegliere il candidato sindaco Cecilia Francese. Oggi se possiamo parlare di una città capofila nella Piana del Sele è perché sono rientrati i parametri all'interno dei quali è possibile fare delle scelte programmatiche. Il riequilibrio finanziario è un percorso attraverso il quale il sindaco francese ha determinato oggi i presupposti per raddare un senso di partecipazione, di essere incisivi su tutto il territorio comunale. È un percorso che ha avuto degli step ben precisi e che vanno riconosciuti perché questi traguardi che sono stati raggiunti sul piano economico e finanziario sono dei traguardi che sono stati perseguiti sin dall'inizio della legislatura e oggi in conclusione della legislatura si può affermare che questa città può ritornare ad avere un ruolo importante nella gestione, nella partecipazione e soprattutto nell'attività di raccordo con tutte le realtà territoriali che operano e che sono presenti sul territorio. Senza questo traguardo parlare di città capofila della Piana del Sele sarebbe stata un'evocazione, un qualche cosa che c'è stato e che per diversi anni invece è venuto a mancare proprio per l'incapacità di spendere e di riuscire a fare delle valutazioni. Perché quando mi dicono che sono sindaco del POM non riesco a dire, noi abbiamo una storia che praticamente parla chiaro, quindi vorrei dire a tutti i competitor di abbassare i toni, di andare avanti e di farci capire il loro progetto nella città. Noi abbiamo presentato un programma, l'abbiamo presentato circa più di un mese fa, un programma alla città scritto con più mani, un programma veramente snello, sta lì pubblicato, voglio dire abbiamo detto, quello che abbiamo fatto e quello che continuiamo a fare. Cecilia Francese, la coalizione si rafforza una nuova lista civica come sin dall'inizio è stato detto, tutte liste civiche a sostegno dell'attuale sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, insomma il percorso diventa forse più semplice ma sicuramente sempre con grande attenzione alle problematiche di questa città. Sicuramente, noi l'avevamo detto dall'inizio, d'altronde il mio simbolo è trasversale, siamo cinque liste civiche, nessun collegamento ma sicuramente ci teniamo al rilancio del nostro territorio. Voi sapete che sono stati cinque anni, cinque anni duri, non è stato facile governare non potendo fare mutui, non potendo assumere, la macchina comunale va molto lenta in questo momento perché abbiamo messo più di 85 unità lavorative in questi cinque anni. Quindi questa nuova lista, questi nuovi amici, in effetti con l'avvocato Salimbeni ci conosciamo da quando eravamo ragazzini e quindi con questi nuovi ragazzi è certo ci rafforziamo sempre di più. Ci rafforziamo sempre di più e quindi puntiamo alla riconferma. Voglio dire che questa città non ha mai avuto un sindaco che ha terminato i cinque anni. Il fatto che abbiamo terminato cinque anni e la continuità è fondamentale perché bisogna continuare tanti discorsi lasciati appesi. Parlavo prima con l'ingegnere Salerno a proposito dell'illuminazione pubblica, proprio ieri abbiamo terminato tutta la progettazione che riguarda la periferia, via Tufariello, via Fasanarella, perché visto che qualcuno va nelle case dicendo che non è vero, lo pubblicheremo e dimostreremo che invece stiamo lavorando per la città. Abbiamo messo cinque anni per fare questa fontà, ma ci riuscirà, cinque anni per fare la piazza della Repubblica, non è che siamo sotto campagna elettorale. Lo avevo annunciato cinque anni fa. Una parola, però la vorrei dire, ne approfitto per l'ospedale. Perché la questione dell'ospedale tu lo sai, perché sei giornalista, mi vede protagonista e battagliera da tempo, da quando ero consigliere comunale, da quando chiusero la medicina nucleare, raccogliemo 8.000 firme con la dottoressa Ciranna, poi ci hanno chiuso la chirurgia del Rachide. Ora ci sta il problema della TIN, della terapia intensiva neonatale, che è un fiore all'ottiello, già da didimensionata. Da anni, da anni, basta andare sui miei comunicati, noi stiamo evidenziando la difficoltà, il rischio di chiusura. E quando, prima di incatenarmi, a gennaio, a gennaio 2021, ho fatto una lettera al direttore sanitario, con accordi ovviamente con i colleghi, di tutte le difficoltà in questo nostro ospedale. Ora mi meraviglio che qualcuno se ne accorge solo ora delle difficoltà. Intanto mi sono fatta, dice, quella si incatena, non ci vado ora perché mi hanno chiamato, andare ora vuol dire veramente che poi la mia storia lo dice, che devo dimostrare. Mi sono sentita la settimana scorsa col direttore generale, aveva detto che ci mandava due unità, ce li manderà, ma noi da tempo abbiamo chiesto anche una convenzione con l'ospedale di Castellammare che era disponibile a coprirci i turni, perché sono rimasti solo tre medici, specialisti nel settore. E quindi non si riesce a coprire i turni. La TIN rimarrà chiusa per 20 giorni, nel frattempo arriveranno queste altre strutture e quindi si riaprirà. Ma non è normale e non è bello che un ospedale come il nostro, che serve 200.000 abitanti, debba avere un reparto così importante chiuso e una partoriente che magari ha difficoltà, deve andare a Salerno se le va bene, se no a Napoli o a Vallo. Questo non va bene. Quindi segnaliamo la battaglia che riprenderà all'indomani della mia elezione con tutta la città. Sarà quella di costringere la regione, perché il problema dei tagli, di questi tipi di tagli parte da lì, a costringere la regione a potenziare il nostro reparto. Perché non è normale che chiudiamo la medicina angoliare, chiudiamo il rachide, chiudiamo la TIN, ci sarà nel 2022, andrà in pensione il primario del pronto soccorso, andrà in pensione il primario di pediatria, andrà in pensione il primario di ortopedia. Se non ci si muove ora, come l'avevamo detto, non andiamo da nessuna parte. Quindi massima attenzione al nostro ospedale e sono veramente molto, 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 molto amareggiata. Per cui io so che quando faccio queste battaglie il popolo sta con me, fino a me ho fatto la persona a moto battaglie regolari, però se non ci danno ascolto c'è tutta una città dietro l'amministrazione francese, perché noi non pigliamo ordine da nessuno, soprattutto dalla filiera istituzionale, vogliamo dialogare con la filiera istituzionale per far rispettare, per farci rispettare, per far rispettare l'ospedale e tutte le persone che hanno utenza verso questo ospedale. Quindi ci siamo, la battaglia continua. Il nostro intento è quello di partecipare a questa campagna elettorale e condividiamo le parole di Cecilia Francesca, perché condividiamo dei concetti che ci hanno poi determinato a partecipare in questa competizione elettorale. Indipendenza, autonomia e continuità. Per la insieme per la battaglia, questi sono concetti e valori essenziali e che qualificano un'azione di governo che già c'è stata. Egidio Mirra, una coalizione che diventa giorno per giorno sempre più forte con nuove liste civiche a sostegno della francese. Questo significa che c'è una forte coalizione attorno alla sindaca, quindi bisogna essere positivi. Sicuramente siamo positivi anche con l'arrivo di questi amici che hanno costituito questo gruppo insieme con Cecilia. La coalizione prende sempre più forma. Io penso che nei prossimi giorni ci saranno ancora altre adesioni importanti per rafforzare un gruppo civico, ma che ha una identità molto chiara, che è quello di salvaguardare gli interessi della città prima di tutto. Quindi prima battivaglia e poi l'appartenenza. Come sta procedendo questa campagna elettorale? Ci sono un po' di veleni in giro? Ci sono degli attacchi? Ma voglio dire, è una cosa abbastanza normale in campagna elettorale. Io non mi meraviglio di questo. Ogni tanto, come si dice, le miserie umane escono. Però chi come me personalmente è in politica da tanto tempo non si meraviglia. L'importante è che per noi che dobbiamo amministrare di nuovo questa città, perché noi riamministreremo questa città con Cecilia Francese, abbiamo a creare gli obiettivi dello sviluppo della città. Lasciamo le polemiche a chi non ha altro da fare che fare polemiche. Invece qual è l'atteggiamento dei cittadini che incontrate? Insomma, c'è entusiasmo verso questo progetto? Sicuramente sì. Con tutti i limiti di una campagna elettorale che mette alla prova tutti quanti noi per la prima volta. Pandemia, difficoltà di incontrare le persone, difficoltà di fare gli incontri pubblici. Però quando riusciamo a interroguire quelle persone c'è grande entusiasmo intorno a questo progetto. La questione di dibattito è stato un elemento che ha tenuto in economia in questa città e non possiamo in alcun modo pensare che un'azione di governo possa tenere in piedi un'area industriale che va ad essere votata come il centro di rapporto dell'intera regione. Non è possibile. Grazie a tutti.